buongiorno come staff della banca dati prosa abbiamo deciso di realizzare questo tutorial per alcune innovazioni nuove opzioni che la banca dati presenta a seguito di esigenze dovute all inserimento dei gruppi di cammino che fa riferimento anche al programma 2 del piano regionale di prevenzione quello nuovo 2020 2025 quindi procediamo con con questo breve breve video per capire insieme quali sono queste nuove opzioni cosa troverete nella banca dati nell'area riservata della banca dati e come potete sfruttare al meglio per le vostre aziende queste opzioni andiamo sulla banca dati nel menu dell'area riservata andiamo su inserimento come vedete ci sono per la regione piemonte una serie di progetti pre compilati cioè dei progetti che hanno al loro interno delle delle parti già compilate delle parti già scritte per agevolare tutti e tutte le as nel caricamento l'ultima è stata aggiunta recentemente e riguarda proprio un progetto pre compilato che sui gruppi di cammino e l'abbiamo chiamato comunità attive gruppi di cammino e fa riferimento appunto al al programma 2 non con questo tutorial non ci addentreremo nella nella spiegazione di come inserire un progetto in particolare un progetto pre compilato che ha già delle facilitazioni perché rimane le stesse criteri che rimangono per per gli a tutti gli altri progetti soltanto ci sono degli elementi già pre compilati vi ricordo che potete leggere tutte le tutto ciò che vi serve sapere su questo progetto pre compilato nel pdf allegato vedete qui in questo caso ci sono sono tutte le informazioni è un testo di dieci pagine non è neanche lunghissimo che spiega come è stato costruito e con quali criteri il progetto pre compilato e anche delle nozioni bibliografiche di evidence per dare delle definizioni anche di che cos'è un gruppo di cammino e tutte le altre le altre informazioni necessarie per per comprendere quello che si sta facendo insomma c'è tutto online quindi vi invito a cliccare e provare detto questo non c'è non è stato inserito soltanto questo questa facilitazione questo questo progetto pre compilato ma è stata data la possibilità per tutti i progetti di poter inserire un gruppo di cammino cosa voglio dire in questo caso stiamo già vedendo qui siamo nell'area di test ma presto sarà tutto implementato nell'area ufficiale di prosa stiamo vedendo qui che alcuni hanno fatto alcuni di voi alcuni vostri colleghi hanno fatto delle prove su con il progetto pre compilato tuttavia ci sono altre altri progetti qui su cui si può lavorare per esempio io ho cliccato sul pedibus della 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 di alessandria e come vedete è un progetto che è diverso non è non è quello pre compilato di cui appena parlato ma è un progetto a parte come vedete nella scheda progetto riassuntiva delle informazioni del progetto che c'è in prosa ci sono gli obiettivi gli interventi del 2021 del 2022 ma ci sono anche la possibilità di inserire nuovi obiettivi di inserire un nuovo intervento magari per l'anno in corso e come nuova opzione la possibilità di inserire un gruppo di cammino cioè a parte un intervento specializzato per segnalare solo i gruppi di cammino come vedete la faccia è molto simile a quella che già conoscete degli interventi di prosa con delle facilitazioni con un percorso guidato più semplice e più veloce da compilare allora la compilazione di queste di queste schede intervento eh speciali particolari sui gruppi di cammino eh saranno utilizzate da voi con due modalità la prima modalità è che si inseriscono singoli gruppi di cammino quindi si fanno a ripetizione si utilizzano queste schede intervento specializzate più e più volte per caricare gruppi di cammino con caratteristiche diverse la seconda modalità è utilizzare uno solo di questi eh progetti scusate di questi interventi specializzati che abbiamo inserito per caricare e accorpare più gruppi di cammino che hanno le stesse caratteristiche tutti in una scheda quindi in pratica se faccio la stessa cosa per esempio in cinque città utilizzerò sempre e soltanto un un gruppo di cammino eh che qui vi facciamo vedere questa una sola scheda eh o per esempio se lo stesso gruppo viene fatto in giornate diverse e quindi ci sono persone diverse sarà utilizzato sempre e solo questo questa scheda intervento quindi ripeto due modalità diverse se i gruppi di cammino sono diversi quindi utilizzeremo una scheda di queste per ognuno di essi se invece hanno caratteristiche simili se sono la stessa cosa ma fatte in tempi diversi in luoghi diversi allora saranno tutti accorpati in un'unica scheda adesso lo vediamo inserisco il titolo l'anno io suggerisco se è eh suggerisco sempre di dividere se c'è la pausa estiva quindi facciamo da gennaio duemilaventidue a giugno duemilaventidue mettiamo in questo caso un obiettivo che c'è già se se no si poteva aggiungere anche prima mettiamo comunità come eh setting e decidiamo i comuni in cui andiamo a fare sempre e solo questo tipo di gruppo di cammino in particolare faremo in questo distretto faremo cinque gruppi di cammino ma che saranno che sarà però lo stesso la stessa tipologia fatto in cinque comuni diversi e andiamo a salvare i dati ecco che la scheda si trasforma e non più presenta non più sette diverse sotto schede sette aree diverse da compilare ma soltanto tre perché stiamo parlando appunto solo di un gruppo di cammino eh e quindi è una cosa specifica richiede meno meno informazioni detto questo andiamo nella pagina eh due target setting e metodi in questo caso non abbiamo un target speciale un target preciso solitamente eh per adulti e qui salviamo sempre meglio da tra un salto e l'altro e qui nell'ultima nell'ultima scheda il numero tre il vero eh la vera innovazione di questa di questa metodologia selezionando i comuni al primo ingresso vediamo che i comuni sono salvati qui dove c'è scritto elenco gruppi qui rosa calcolerà il numero di gruppi di cammino che voi state mettendo segnalando cosa voglio dire voglio dire che l'intervento è lo stesso cioè gruppi di cammino per adulti qualsiasi tipo di target basta che siano adulti fatto in questi cinque comuni quindi già qui rosa conta cinque gruppi di cammino anche se la scheda è uno cinque gruppi di cammino cominciamo ad escriverli c'è una parte dove c'è da scrivere ora giorno ora periodo qui mettiamo lunedì e giovedì ora diciotto gennaio giugno durata due ore iscritti venti indirizzo via via Roma uno parco tal dei tali contatti silvano tre 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 attenzione come vedete qui sto mettendo i riferimenti eh del del dei leader dei riferimenti eh di persone quindi attenzione di eh sempre avere il consenso dei dati eh il consenso delle informazioni personali che si si caricano su prosa non solo qui in generale eh perché abbiamo avuto vari problemi di persone che hanno visto il proprio eh indirizzo email privato e il proprio cellulare su google e ci hanno chiamato attenzione bisogna chiedere il consenso prima di inserire dati personali qui si può inserire appunto il riferimento eh un sito gruppi di cammino punto it eh l'indirizzo dell'indirizzo della segreteria dell'associazione o dell'aslo insomma qua si possono fare eh tutte le eh come dire si possono inserire tutto quello che serve per dare dei riferimenti e infine eh una descrizione sommaria per non necessaria si può lasciare vuoto questo campo eh appunto qui l'esempio è passeggiata eccetera attenzione in questo in questo eh specifico campo quello che è veramente importante quello che conta è l'indirizzo per la mappa contano tutti i dati ovviamente ma ci serve per costruire poi la mappa dei gruppi di cammino in tutto il Piemonte l'indirizzo preciso dove per esempio avevo non avevo inserito eh non avevo inserito il 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 cap eccetera eccetera in questo caso Google riconosce esattamente dove parte il gruppo di cammino e lo posiziona sulla mappa di Google ora possiamo inserire un nuovo gruppo di cammino nel comune di Cuccaro Monferrato e possiamo fare questa volta martedì e venerdì questa volta le diciannove in questo caso salviamo i dati in questo caso salviamo i dati in questo caso abbiamo due gruppi di cammino un'unica scheda molto 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 importante eh abbiamo accorpato lo stesso gruppo di cammino e anche se il il sistema li conta tutti sono fatti in due comuni diversi quindi sono due eh ciò che differenzia all'interno di questa scheda i vari gruppi di cammino sono sicuramente eh il comune eh il comune di svolgimento i dati i dati logistici il periodo di effettuazione gli appuntamenti settimanali settimanali l'ora durata gli iscritti il luogo di ritrovo e i riferimenti di capo camminata quindi questo sistema è stato implementato ed utile per accorpare tutti quei lunghi elenchi di interventi che poi a livello fondamentale fondamentalmente erano lo stesso gruppo di cammino ma fatto in luoghi diversi in giorni diversi con persone diverse ma era la stessa cosa quindi prosa registra la cosa l'intervento e poi conta i gruppi di cammino in base a tutte le varie specifiche specifiche che vi ho vi ho appena illustrato come differenziare i gruppi di cammino perché utilizzare più schede nel caso per esempio qui abbiamo messo questo era un gruppo di cammino per adulti nello stesso progetto facciamo finta io voglio inserire del nordic walking per adulti cambio scheda quindi ritorno al progetto vedete qui è stato salvato prova silvano ne inserisco un'altra e scrivo prova fit walking silvano in questo caso tutto come prima comunità se sono cambiati i comuni bene se no li mettiamo gli stessi salvo i dati e prosegui questa volta sempre per adulti ma fit walking quindi non è più la stessa cosa uso la parola cosa giusto per capirci ma stiamo parlando di interventi non è più lo stesso perché non è più un gruppo di cammino è fit walking non è più la stessa cosa quindi la scheda è differente saranno due perché perché si differenzia per la metodologia del gruppo di cammino se fosse stato invece un gruppo di cammino ok lo stesso quello come come prima ma stavolta rivolto a minori allora avremo fatto comunque un'altra scheda perché il destinatario era specifico e diverso nel quello che abbiamo inserito prima non c'era un destinatario specifico era per adulti quindi potevano esserci anziani settantenni sessantenni quarantenni non c'era un target specifico in questo caso il target specifico c'è quindi l'intervento cambia minori oppure poteva essere con patologie specifiche poteva quindi patologie specifiche oppure poteva essere per situazioni particolari altro potremmo mettere altro solo per donne solo per lavoratori insomma se il destinatario è particolare è specifico allora va fatto un altro intervento utilizzando questa scheda torniamo all'esempio del dei minori o degli anziani possiamo fare anziani fit walking per anziani un po' più facciamo nordic walking per anziani una cosa un po' strana forse non è realistica e salviamo e proseguiamo e ovviamente come prima c'è l'elenco dei gruppi dei vari dei vari eh comuni attenzione perché nello stesso comune io per esempio non ho fatto l'esempio prima lo faccio adesso potrei avere un fit walking il lunedì e giovedì alle 17 da giugno a anzi siccome vabbè da giugno a da gennaio scusate a giugno durata ore 2 iscritti 15 io faccio sempre la solita via via roma 1 15 0 57 lugaro alessandria silvano eccetera eccetera passeggiata no anzi fit walking eccetera eccetera e salvo attenzione perché nello stesso comune io posso aggiungerne un altro nello stesso comune di frugarolo si fa un altro fit walking quindi lo stesso ma stavolta il martedì e il giovedì il venerdì scusate facciamo lo stesso formato sempre alle 17 da gennaio a giugno sempre nello stesso luogo via roma 1 15 0 57 riferimenti descrizione come vedete nello stesso e salviamo ovviamente perché altrimenti o non ho salvato gli iscritti perdonate vedete si può tornare modificare due ore facciamo dieci iscritti salvo i dati in questo momento nello comune nello stesso comune abbiamo due gruppi di cammino e quindi il sistema vede inserita una sola scheda ma conta due gruppi di cammino quindi noi potenzialmente in cinque comuni se ci sono tre diverse metodologie nello stesso comune potremmo avere anche 15 gruppi di cammino anche 20 gruppi di cammino 50 gruppi di cammino tutti accorpati per le stesse caratteristiche utilizzando però stavolta soltanto una scheda questo è fondamentale non serve più quindi scrivere per ogni gruppo di cammino una scheda intervento perché la banca dati risultava illeggibile troppe 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 eh troppe interventi e si visualizzavano veramente male per alcuni progetti e attenzione perché ehm con questa modalità il titolo anche deve essere aggregante non possiamo più scrivere il comune nel titolo non possiamo scrivere fit walking per frascaro frugarolo monte castello pietra marazzi valenza da giugno a gennaio è un titolo che non funziona bisogna scrivere un titolo che ha corpi come per esempio fit walking al asli alessandria periodo giugno gennaio comunque dei bisogna trovare un titolo che sia anche molto comunicativo e che dia le giuste informazioni soprattutto per chi visita il progetto da fuori e che vede uno sproloquio di di interventi che poi alla fine fondamentalmente sono è lo stesso e non capisce quindi attenzione al titolo anche il titolo deve essere un titolo che ha corpa e che sia chiaro e comunicativo detto questo la visualizzazione come vedete qui degli interventi è la stessa prova prova fit walking e con questa eh con questa modalità ehm noi speriamo di poter organizzare i dati del dei gruppi di cammino in maniera più funzionale e speriamo con questo percorso guidato molto guidato e personalizzato di poter aiutare voi eh nel caricamento eh e nella rendicontazione grazie alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti